Cambiamo argomento, sindacati confederali in piazza il primo giugno a Bologna con una manifestazione unitaria per chiedere nuove politiche su sviluppo, equità e lavoro. Giorgio Maria Leone. È aumentato del 3,1% a marzo il ricorso alla Cassa Integrazione Ordinaria. In un anno quella straordinaria è quasi raddoppiata, mentre crolla il reddito delle famiglie. Il primo giugno Cigel e Cisle Will manifesteranno in piazza maggiore a Bologna per chiedere occupazione, sviluppo ed equità. Crolla il reddito delle famiglie, è un quadro economico estremamente negativo. La Cassa Integrazione che aumenta notevolmente nella macroarea del nord e del nord-est vuol dire che in una zona industrializzata è ferma l'economia, è fermo tutto. Sarà l'anticipazione dei temi della manifestazione che i confederali hanno programmato per il 22 giugno a Roma, a partire dalla riforma del fisco e dalla necessità di politiche industriali a sostegno dell'occupazione. Vogliamo un paese ancora capace di produrre sul piano manifatturiero, vogliamo un paese che sia in grado di governare un processo di crescita su un'economia reale. Dall'altra abbiamo bisogno di alleggerire le tasse sull'agente comune, sui lavoratori dipendenti e pensionati e sulle imprese. I sindacati chiedono di rafforzare lo strumento dei contratti di solidarietà ed una soluzione definitiva al nodo della Cassa Integrazione Inderoga. Nella ricostruzione delle aree terremotate si mette al centro la priorità del lavoro. Con 9 miliardi di distanziamento pubblico, se non li utilizziamo per creare lavoro, sarebbe una sconfitta per tutti noi, istituzionale, sindacale, imprenditoriale. Ecco, facciamo anche il piano per il regolatore e per il lavoro, perché a quel punto daremmo una risposta all'identità di questa regione, che è un'identità manifattoriere industriale e un welfare di grande quotidianità.